In questi anni ci siamo impegnati a coltivare futuro, per una Modena più moderna e attrattiva, più verde, solidale, in cui vivere, trascorrere il tempo libero, partecipare ad attività culturali, con occasioni di formazione e apprendimento e di opportunità di socializzazione. Modena 2050, il futuro è adesso, è stato lo slogan che ha accompagnato il percorso di approvazione del Piano Urbanistico Generale, la stessa prospettiva sviluppata dal Comune insieme alla Regione, nella definizione dell'Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile, Una città rinnovata, in grado di attrarre giovani, talenti, turisti e imprenditori, attenta alla sostenibilità ambientale ed energetica, per rendere Modena un luogo fortemente inclusivo, coeso e accogliente. Una città che da oltre 25 anni lavora per intercettare risorse europee a sostegno di investimenti e progetti di qualità, confrontandosi con altre realtà internazionali. Grazie alle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei, abbiamo elaborato una nuova strategia di sviluppo territoriale sostenibile, coerente con il programma Next Generation Modena e con le risorse del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Stiamo lavorando per completare la riqualificazione dell'ex ospedale Estense, un antico complesso architettonico settecentesco nel centro della città, destinato al luogo della cultura con l'ampliamento di percorsi espositivi per il museo civico e le gallerie estensi, nuovi spazi e sale per la lettura e la didattica nell'ambito del polo culturale, che comprende Palazzo dei Musei e Sant'Agostino, una vera e propria porta d'accesso alla città, per cittadini, turisti e studiosi. Con il recupero dell'extazione piccola, in cui avrà sede la fondazione ITS Maker, intendiamo creare un luogo dedicato ai giovani e alla formazione professionale di qualità, restituendo alla città un'area rigenerata e rinnovata. Con il completamento della diagonale verde, realizzeremo un nuovo tratto ciclopedonale, ulteriore sviluppo del corridoio ecologico che collega la città lungo il tratto della linea ferroviaria storica dismessa. Per proseguire il percorso di connessione verde tra la città e la prima campagna, dalla stazione ferroviaria fino a Marsaglia, passando per la Madonnina e il polo scolastico. Aumentare le competenze digitali dei cittadini e delle imprese del territorio è l'obiettivo dello sviluppo delle attività del Laboratorio Aperto, che fa parte della rete regionale, avviata con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. Nel cuore del comparto Exa MCM, in corso di rigenerazione con il Parco della Creatività, un luogo strategico per favorire la crescita di comunità digitali attraverso la diffusione della cultura digitale, la promozione delle nuove tecnologie, l'accesso ai servizi e alle informazioni. Senza dimenticare l'accesso alle persone in difficoltà. La trasformazione del centro stranieri in centro servizi, grazie al Fondo Sociale Europeo, un nuovo spazio di inclusione per persone senza fissa dimora, con il potenziamento dei servizi di accoglienza per una Modena inclusiva e solidale. Infine, con la costruzione del nuovo Ponte dell'Uccellino sul fiume Secchia, a doppia corsia, con una passerella ciclopedonale e interventi sulla direttrice stradale, miglioriamo i collegamenti tra Modena, Solliera, Carpi e gli altri comuni della bassa modenese. Modena continua il suo percorso delineato in questi anni, consapevole che il futuro è adesso. Siamo impegnati a rendere la nostra città sempre più un luogo accogliente, inclusivo e solidale, in linea con la doppia transizione verde e digitale che l'Unione Europea ci invita a realizzare. Siamo impegnati a rendere la nostra città